Arriveranno domenica prossima 27 febbraio in Abruzzo 220.000 dosi del vaccino Novavax. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che auspica la vaccinazione degli abruzzesi che ancora l'hanno fatto. La modalità è libera scelta, quindi possibilità di andare presso i centri vaccinali e potersi vaccinare con il nuovo vaccino. Abbiamo preferito usare questo metodo e non l'adesione alla piattaforma proprio per dare maggiore libertà e poter somministrare queste dosi a quelle persone che ancora tentennano e quindi avere una maggiore percentuale di vaccinati nella nostra regione. L'assessore ha poi annunciato un piano di assunzioni del personale sanitario che per 18 mesi anche in maniera non continuativa ha prestato opera nel periodo dell'emergenza sanitaria. Secondo la legge e bilancio loro potranno essere assunti a tempo indeterminato. Altro problema affrontato invece è l'internalizzazione di tutte quelle persone che lavorano presso i servizi CUP e front office. Andremo anche qui a cercare di internalizzare. È una procedura un po' più lunga perché c'è bisogno di una legge a livello regionale. Nell'emore di questa attuazione cerchiamo di omologare, omogenizzare quelle che sono le modalità di erogazione di queste attività.